Siamo passati dal rapper con la scorza cattiva e dall'animo nobile, passando dal bello e dannato a un membro singolare, individuale, dei blu del 2020, versione un po' più urban di Paolo Meneguzzi. Ok, la canzone in fondo, anche se è debole, in fondo è pure carina se la andiamo a sentire presa a pezzi, il discorso è che quello che vuole comunicare questa canzone, altro non è che una risposta, lui sta rispondendo a ciò che gli pesa ascoltare su di sé, il peso del successo arriva e ci sta questa risposta, è un vaffanculo a tutti quanti. E' semplice, non è difficile da capire, è intuitivo e lo fa anche con sincerità, è vero, io veramente non penso a te, anche se ciò che dici mi tocca quel minimo per scriverci sopra. Forse per questo è debole, perché magari non sente davvero il peso in questo momento di grande rinascita dal punto di vista artistico. Il discorso è che è debole il fatto che uno si debba difendere così, cioè lui è molto più forte quando si racconta davvero, quando apre il suo cuore. Allora perché mostrare il lato, quello che si deve difendere, quello che ha paura, e siccome ha paura, non me ne frega niente, non me ne frega niente, sicuro che non te ne frega niente. Perché a me quando hai fatto bambino mi sembrava che te ne fregasse, non tanto di quello che dicesse la gente, ma di come va il mondo, dei cuori delle persone, delle anime che ti accerchiano. E il fatto che adesso porti un concept così, dicendo a me non me ne frega niente, vado avanti, è solo un passo che fanno tutti quelli che iniziano ad avere successo, e che l'hanno fatto in mille altri modi, e secondo me così non è poi così efficace, non è sincero. E quindi secondo me, sì, lui ha talmente il quorum della situazione che è impossibile farlo fuori, però cazzo, cioè questa sera mi è sembrato che portasse una maschera, una maschera costruita ad hoc, e che funziona di brutto in un mercato come quello di oggi, però va a discapito di se stesso, tutto qua. So che magari di queste parole non gliene frega niente, però io le dico.